Siamo andati a lavarci e cambiarci gli indumenti, poi ci siamo recati a Castelvetrano per andare a ballare all'area 14. Durante il tragitto non abbiamo parlato di nulla, pensavamo solo a divertirci. E' la ghiacciante ammissione di Carmelo Bonetta davanti alla Corte d'Assisi a Trapani, imputato al processo per l'omicidio di Nicoletta Indelicato, avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 marzo scorso. Bonetta, al reo confesso del delitto, è stato sentito in videoconferenza dal carcere Pietro Cerulli. In merito però al movente, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Alla Corte è anche raccontato di essere stato manipolato da Margareta Buffa, anche lei imputata e amica della vittima. Voleva che la coprissi, minacciandomi se non l'avessi fatto. Voleva lasciarmi, io tenevo a lei. Margareta faceva l'escorta a pagamento. Non so se tra lei e Nicoletta vi fosse una relazione sentimentale. Anche Nicoletta però per un certo periodo di tempo si prostituiva per avere qualche soldo in tasca. Margareta e Nicoletta, aggiunto, litigavano spesso, non so il motivo però, erano cose da donne e io non mi mettevo in mezzo. Dopo l'omicidio, Margareta Buffa, secondo la tesi di Carmelo Bonetta, si è impossessata di alcuni effetti personali della vittima, in particolare di un braccialetto e del suo telefonino cellulare. Mentre Carmelo Bonetta e Margareta erano nella sala d'aspetto della caserma dei Carabinieri di Marsala, la ragazza ha detto al maestro di ballo, io da qui voglio uscire con la mia vita e con la mia auto. Quando le ho rivelato che volevo confessare, mi ha detto che il cadavere non si doveva trovare e che io mi dovevo assumere tutte le responsabilità. Alla fine mi sono preso appunto le mie responsabilità, lei invece no. Prima di raggiungere a Castelvetrano il noto locale, area 14, subito dopo il delitto, Bonetta e Buffa si sono fermati sul ponte Mazzaro per sbarazzarsi del coltello utilizzato per uccidere Nicoletta. Dall'auto, ha raccontato sempre Bonetta, sono sceso solo io, ho gettato l'arma nel fiume. Poi un'altra sosta, questa volta nei pressi di uno stabile tra Mazzara del Valle e Campobello di Mazzara per disfarsi dei vestiti sporchi di sangue che erano stati sistemati dentro ad un sacco. Bonetta ha raccontato, dall'auto siamo scesi tutti e due, Margareta ha messo il sacco accanto ad un palo della luce e gli ha dato fuoco, utilizzando il liquido infiammabile che era dentro la stessa bottiglia adoperata per bruciare il corpo di Nicoletta. Siamo subito risaliti in macchina e siamo andati via. Raggiunta la discoteca, sono rimasti lì a ballare fino alla 4.30 del mattino, prima di rincasare la colazione in un bar di Strasatti, poi siamo andati a dormire. Il giorno dopo, alle 7.30, sono uscito per andare a lavorare. Margareta l'ho sentita solo nel tardo pomeriggio, mi ha chiesto di coprirla in certi orari, e cioè dalla sera fino alla mattina. Bisognava poi pulire l'automobile, lo abbiamo fatto, ha raccontato ancora Bonetta, davanti al cancello di casa mia, utilizzando la candeggina, ma non ricordo se c'erano tracce di sangue.